L'amante senza fissa dimora, di Fruttero e Lucentini. Terza parte. La porta verso il chiostro, nella navata di sinistra, era chiusa e il sagrestano non c'era. Un vecchissimo prete di passaggio allargò con impotenza le braccia. Mister Silvera sapeva però di un altro ingresso. Il chiostro, mi spiegò, era dell'ex convento annesso alla chiesa, ora occupato da uffici del genio militare, e se ben ricordava si poteva entrare anche da quella parte. Ricordava benissimo. Riuscimmo sul campiello Santo Stefano, riattraversammo il rio Sant'Angelo, e voltando a destra ci trovammo davanti ai gradini di un altro portale, cinquecentesco questo, ma con targhe di uffici contemporanei, tra cui uno, notai, per i danni di guerra. Un militare e un paio di civili ne stavano uscendo, un'impiegata entrava con un fascio di pratiche. Entrammo anche noi senza difficoltà. Il chiostro era quadrato e architravato, a fredde colonne ioniche del Rinascimento, con un antico pozzo nel centro. Guardai uno dopo l'altro i quattro lati. Nell'andito dietro le colonne, i muri erano spogli, chiazzati d'umidità e qua e là scrostati. Al di sopra delle colonne, distanziati da metri di intonaco giallino, c'erano due ordini di finestre. Una era semiaperta e ne scendeva un ticchettio di macchina da scrivere. Controllai di nuovo all'ingiro, presi nota di due biciclette, di una scopa appoggiata al muro. Ma nessun affresco, o niente che potesse ricordare un affresco, era visibile su nessuna delle superfici del chiostro di Santo Stefano. Un telefono suonò, sdrammatizzato, immiserito dalla distanza. Mi voltai perplessa a Mr. Silvera. Ah, disse lui. Più deluso che meravigliato, Mr. Silvera non offre la minima spiegazione del suo errore, non tenta in nessun modo di giustificarlo. Lui, di fatto, come confessa alla sua compagna, che sembra più imbarazzata di lui, granchi del genere ne prende spesso, è un confusionario recidivo e impenitente. Ma questa volta, dice mentre tornano verso l'uscita, mi dimetto sul serio da capocomitiva. Fuori dal portale, scesi i quattro gradini, si ferma e si gira verso di lei con l'aria di prepararsi a darle la mano. Le chiedo sinceramente scusa, dice. Vede però cosa succede a prendere guide non autorizzate? Se ci incontreremo un'altra volta dovremo essere più prudenti tutti e due. Ma senta, dice lei. Ha passato automaticamente la borsa dalla destra nella sinistra, ma non si decide a salutare. Considera l'ogivale, quattrocentesca facciata di Palazzo Duodo, il via vai della gente sul ponte dei Frati, un gruppo di piccioni sulla spalletta. Finisce per muovere un passo, poi un altro in direzione del ponte. Ma senta, dice costringendolo a seguirla, questi suoi affreschi, se non sono qui, saranno pure da qualche parte. Possiamo sempre cercarli. Comunque, la sua comitiva sono io e le sue dimissioni non le accetto. Le offro invece un bicchiere di vino, un'ombra, come dicono qui, con un paio di panini perché ho fame. In quella specie di osteria che c'è qui dietro in Calle dei Frati, lo sa lei che al suo posto una volta c'era l'antica scuola di Santo Stefano? Mister Silvera si copre la faccia con le mani, ride, le riprende il gomito. Ma lei vuole proprio stravincere, dice. Le ombre sono poi state due ed un bianco ben ghiacciato, ideale col tempo che si è messo a fare. Sul campo Morosini, la vasta piazza dove passeggiano ora, non c'è più una sola nuvola. Il bronzeo monumento a Nicolò Tommaseo luccica sotto un sole smagliante, fa caldo come d'estate. E non è ancora mezzogiorno, dice la non più sconosciuta signora, che si è presentata formalmente con nome, cognome e perfino nomignolo per gli amici. Mister Silvera, quanto a sé, si è presentato come David Ashford Silvera. Lui di nomignoli o soprannomi, ma qui forse ha esitato un momento? Con la sua vita migratoria non ne ha mai avuti, non ha mai fatto in tempo ad averne. Fermandosi a metà campo, lei posa la borsa ai piedi del Tommaseo e si toglie la giacchetta per gettarsela sulle spalle. A quest'ora, dice, quella sua nave sarà arrivata perlomeno al Pireo. Chissà laggiù che meraviglia con questo tempo. Mister Silvera ribatte che il tempo, quello atmosferico ben inteso, the weather traduce non the time, è immateriale. Lei vuol dire irrilevante? Lo corregge la sua compagna. Immateriale per noi non ha lo stesso uso che in inglese. Tranelli dell'italiano, si scusa lui. Si vede proprio che oggi non è in giornata. Ma comunque, e non per ricacciarla tra i comuni turisti, non trova anche lei che questa storia del tempo bello o brutto è diventata ossessionante? Tutti appesi al barometro e al termometro, tutti con la fissazione del bollettino meteorologico come fosse una questione di vita o di morte. Guai se si annunciano nuvolosità e precipitazioni. La pioggia invece può essere bellissima, dice. E bellissimi il vento, le nuvole, la nebbia? Non trova? Lei prende dalla borsa un grande paio di occhiali da sole e si li mette. Alza la testa a guardarlo con punta da dietro le lenti azzurre mentre si riavviano. E va bene, abbasso i barometri, dice lasciandosi guidare come una cieca verso l'ombra di calle dello Spezier. In cale del Piovan si riferma per osservare Mahometto II che osserva il cartello di Scutari in basso rilievo sulla facciata della scuola degli albanesi. Però, ci ripensa, non so, forse per una donna il fatto del sole è diverso, noi siamo più come animali. Ah, ride lui, ma questo non le dà il diritto di parlare male della pioggia. Dio me ne guardi e neanche della nebbia. Volevo solo dire che il turismo, il tempo libero non c'entrano necessariamente con la mia preferenza per una mattinata così. Mister Silvera ha approfittato della nuova sosta per togliersi l'impermeabile che ripiega con cura. Con lei dentro una mattinata così è perfetta in ogni caso, dice con ostentata galanteria riprendendole il braccio. Non è ammissibile che io stia a farle conversazione sul tempo come un manuale Berlitz. Lei si mette a ridere. Veramente, dice, ho cominciato io. Dal sole di campo San Maurizio rientrano nell'ombra di un vicolo poi d'un campiello e riescono al sole davanti a Santa Maria Zobenigo detta anche del Giglio. Il grande albergo in fondo a destra è quello di lei che ora si pente doppiamente di averne parlato durante la colazione. Da una parte è stata una vera e stupidissima gaff di cui ha già arrossito quando lui in cambio ha dovuto nominare uno sconosciuto alberghetto o misera pensione probabilmente dalle parti di San Giovanni in Bragora. Ma adesso c'è anche il rischio che lui da capo comitiva inaffidabile qual è la riaccompagni gentilmente all'hotel e la pianti lì con tanti saluti. È senz'altro il tipo da farlo pensa piccata improvvisamente offesa da quel suo ostinato distacco da quei suoi complimenti puntigliosamente di maniera. Mister Silvera piega effettivamente a destra verso l'albergo là in fondo che lei sta cercando di non guardare. Si chiamava Basilissa Tuvionio pensi? Le dice con un tono intimo quasi di complicità come se stesse facendole finalmente una vera confidenza la regina dell'Oionio. La nave per Corfu? Per Corfu Patrasso Atene Salonicco e via di seguito ma non è vero che io quel mio gruppo avrei dovuto affidarlo a un'altra guida. Non capisco dice lei stupita alzando gli occhi girandosi a guardarlo lei vuole dire è interrotta dal trapestio di una piccola folla che sbuca compatta e frettolosa dalla calletta di fronte e nello stesso momento si accorge che la mano di lui ora stretta più familiarmente al suo braccio la sta sospingendo appunto da quella parte e non verso l'albergo che è più a sinistra. La calletta conduce al pontile di Santa Maria del Giglio dove attraccano i vaporetti della linea 1. Venga dice Mister Silvera facendo le strada tra la gente appena sbarcata che ancora affolla lo stretto passaggio quando arrivano al pontile il vaporetto è ripartito ma un altro ne sta arrivando dalla direzione opposta per San Marco e Lido annuncia il bigliettaio venga ripete Mister Silvera guidandola sulla passerella e poi verso una fila di sedili liberi a prua non le dispiace se i capelli le si arrufferanno un po' dice quando sono seduti le confesso che lo scopo dell'imbarco è un po' questo ci tengo a vederla spettinata ah e allora tutti quei complimenti sulla mia bellissima pettinatura erano falsi ma non importa quello che le stavo chiedendo era lei ha detto che non doveva affidarli a un'altra guida i suoi croceristi vuol dire che su quella basilissa avrebbe dovuto imbarcarsi anche lei sì veramente veramente anzi mi ero già imbarcato li avevo sistemati e tutto ma all'ultimo momento è stato più forte di me ho ripreso la mia valigia e sono sceso ma perché ah dice lui il vaporetto si è staccato dal pontile lei guarda la tripla facciata dell'albergo sfilare sulla sinistra mentre l'aria della corsa comincia a scompigliarle i capelli e pensa che questa linea 1 piazzale Roma Lido la sta portando in realtà lontanissimo molto più lontano di qualsiasi porto dell'Adriatico o anche dell'Uionio e dell'Egeo seduto accanto a lei nella sua sciolta giacchetta di tweed con le spalle un po' curve e il suo nitido profilo da medaglia mister Silvera le riappare esattamente come l'ha visto ieri per la prima volta sul volo Z114 attorniato dalla sua vociante comitiva una comitiva particolarmente affliggente ma è parso scherza intrigata ma senza osare chiedergli di più lui adesso ha un'aria più libera allegra come se quella sua confessione da scolaretto che ha marinato la scuola l'avesse sollevato da un peso no no poveretti niente affatto del resto non cambiano mai sa sono sempre tutti come bambini e bambine ce n'era una dietro di lei che non le ha staccato un momento gli occhi di dosso ridono tutti e due tenendosi una mano sui capelli mentre il vaporetto fila verso la riva della salute lei indica con l'altra mano davanti a sé look look the salute the dogana the san giorgio maggiore look mister silvera the bacino di san marco annuncia lui quando la linea 1 continuando il suo zigzag attraverso il canale li riporta verso la riva degli schiavoni si volta a guardarla e le prende delicatamente il polso per farle togliere la mano dai capelli ma lei mi vuole proprio spettinatissima protesta lei dopo tutto ci sono delle convenzioni tra persone che si sono presentate da da quanto tempo chiede cercando di guardare l'orologio senza liberare il polso il tempo dice mister silvera è immateriale sono scesi alla fermata dell'arsenale camminano per le fondamenta silenziose e quasi deserte del rio di san martino poi per un dedalo di stradette che li riportano imprevedutamente indietro sul campo bandiera e moro lei osserva che da queste parti si finisce sempre per tornare a questo campo quando non si sa bene la strada mister silvera riprende un momento il suo ufficio di guida per informarla che una volta il campo si chiamava della bragola il nome è poi rimasto alla chiesa ma trasformato in bragora san giovanni in bragora già dice la sua compagna ma lo sapeva bene lo sapevano benissimo tutti e due che sbarcando all'arsenale sarebbero venuti dalle parti di san giovanni in bragora dove benché complicato a quanto sembra da ritrovare c'è l'alberghetto in cui lui ha preso alloggio ieri abbandonando la basilissa riprendono per la calle del pestrin poi di nuovo verso san martino ah ecco vede è lì fa lui voltando in una calletta la calletta termina in gradini verdastri che scendono nell'acqua di uno stretto canale a destra c'è uno scorticato portone con l'insegna pensione marine ecco vede visto da fuori è parecchio malandato ma dentro poi non è male dice lui mentre entrano nella saletta c'è perfino un divano con delle vecchie poltrone uno scaffale con vecchi libri ah bene la padrona incastrata dietro la cassa alza appena gli occhi quando il suo cliente di ieri sera viene a riprendere la chiave nella saletta non c'è nessuno c'è anche l'ascensore dice lei con una voce che non ricordava più di avere in camera posa la borsa sul letto e va alla finestra guarda in basso il canale solitario e il dilapidato muro di fronte con ciuffi d'erba e frammenti di marmo ancora incastrati tra i mattoni niente male proprio dice senza voltarsi appoggiata di spalle a mister silvera che le ha tolto la giacchetta e le sfila ora con delicatezza gli occhiali capitolo quinto pur avendo come si dice un certo temperamento sono stata sempre una donna piuttosto riservata circospetta tutt'altro che facile da conoscere in senso biblico per cui il fatto di essermi come pure si dice data a lui data per due ore di fila in quella misera stanzetta su quel letto strettissimo dopo neanche due ore che lo conoscevo avrebbe dovuto sembrarmi inaudito la fine del mondo addirittura e non dico che non mi paresse che non ci pensassi mentre tornavamo verso la riva degli schiavoni ero anzi così assorta in quello stupore che solo quando uscendo dai vicoli ci ritrovammo in campo bandiera ai moro mi resi conto di una cosa ancora più strana camminavamo tenendoci per mano constatai sbalordita intenerita incredula cioè non proprio tenendoci era lui che camminando un po' più avanti mi portava per mano come una ragazzina ma era una cosa incredibile lo stesso una situazione in cui mai avrei sognato di potermi trovare con nessun altro mentre con lui mi era sembrata subito così normale da non averci nemmeno fatto caso hey you mi misi a ridere avevamo cominciato a parlare inglese dopo il fatto perché passare al tuo era difficile ma darsi del lei sarebbe stato veramente curioso gli mostrai quando si voltò le nostre mani intrecciate e tutta la gente che avrebbe potuto guardarci anche se nessuno ci guardava in quel momento non avevo più 15 anni gli spiegai forse ne avevo qualcuno più di 30 so what rispose senza fermarsi se era per questo lui doveva averne più di 2000 ma con ciò ma senti dissi e se lui non si fosse fermato su due piedi per abbracciarmi e baciarmi lì in pieno campo bandiera o della bragola che fosse neanche avrei capito d'essere passata al tu forse qualcuno ci guardò davvero questa volta ma non posso dire che mi sentissi imbarazzata mi sentivo bellissima invece un po' sbattuta magari ma bellissima guardassero pure quanto volevano da san francesco della vigna suonarono le tre c'era una bancarella di frutta all'angolo con la calle del doge me ne compri chiesi yes madam tutto quello che vuoi mele mandarini uva 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 per la bella signora disse alla fruttivendola bella signora bellissima uva disse la fruttivendola pesando due biondissimi grappoli li lavamo alla fontanella e uscimmo sulla riva ancora assolata andammo a sederci sui gradini di santa maria della pietà davanti a noi l'isola e il campanile di san giorgio brillavano con nitida eleganza il lido sulla sinistra allungava la sua fascia sottile e sfumata l'acqua e il cielo erano di perla l'uva squisita da una fila di gondole che entrava nel rio dei greci giunsero accordi di mandolino dio santo pensai all'improvviso ma allora non sarà mica successo tutto per colpa di per via del fascino che perché siamo a impossibile per giovanissima e bellissima che mi sentissi non avevo più o non avevo ancora l'età mentale per cedere alle seduzioni di Venezia la perla della laguna Venezia la città degli amanti Venezia l'ispiratrice di Byron Browning Ruskin Turner Bonington Barres Mann D'Annunzio senza contare Bernard Berenson soprattutto non ero il tipo e la prova era mi dissi ripensando alle futili discussioni di ieri sera da Raimondo che nemmeno mi sentivo di piangere su Venezia invasa dalle masse e ridotta pizza parlor su Venezia col suo traboccante Harris Bar e le sue feste posticce le sue mostre incongrue o raccapriccianti il suo osceno carnevale di recupero ero insomma una professionista che a Venezia ci veniva spesso per il suo lavoro senza pregiudizi né illusioni sulla città e che solo per caso proprio qui ma a Gallarate o a Bethnal Green per dire ero sicura che le cose sarebbero andate lo stesso aveva perso la testa per qualcuno guardai il qualcuno per cui l'avevo persa pensavo dissi volevo dirgli di Bethnal Green ma lui si voltò a sorridermi un secondo troppo tardi aveva smesso di pilucare il suo grappolo e stava fissando con un'aria che mi gelò una motonave ormeggiata a poca distanza da noi ebbi la sensazione precisa che avessi in mente di andarsene quel giorno stesso con quella stessa nave magari o con un'altra o in treno o con un aereo qualsiasi ma di andarsene da me? solo la gentilezza straordinaria con cui mi sorrise mi dette il coraggio di scherzare pensavo alle gondole mi chiedevo se nel nostro caso non saremmo tenuti per legge a prenderne una cui su certe cose non transigono beh disse dovremmo rischiare la multa perché io invece stavo pensando di prendere quella nave lì inghiottì con sforzo quella nave lì con me e con chi altro ma io ma quando parte dove va tu lo sai c'è scritto là disse indicando un chiosco di fianco al pontile e del resto chissà se invece di una gondola prendiamo quella forse ce la manderanno buona lo stesso sul chiosco c'era scritto servizi lagunari linea 25 venezia chioggia un cartello più in basso annunciava la prossima partenza per le 15 e 20 la motonave si chiamava non so più come non avrai freddo chiese no si sta benissimo eravamo seduti sul ponte più in alto ma verso poppa e l'aria della corsa arrivava smorzata tiepida sotto un cielo e su un'acqua più di perla che mai il sole splendeva a mezza altezza dalla parte di fusina ragazze imprendisole si sbracciarono a salutarci dalla piscina di cipriani alla giudecca mentre la nave infilato il canale della grazia prendeva velocità verso la laguna aperta con questi servizi lagunari dissi ne stiamo facendo di strada ma per tornare gli dissi del cocktail a palazzo priuli dove avrei dovuto arrivare non troppo tardi lui disse che al ritorno si poteva prendere il traghetto per pellestrina e poi una cuorriera fino al lido se ricordava bene così si faceva molto più presto mi spiegò e poi mi decise a chiedere dopo un silenzio dopo il lido no dopo il cocktail ci rivediamo girò gli occhi un momento verso di me ma poi li riabbassò senza dire niente io stetti un po' a frugare nella borsa in cerca delle sigarette accesi tra l'isola della grazia e quella di san clemente all'incrocio di due canali era pieno di gabbiani fermi tutti intorno sui pali e sulle bricole al passaggio della nave s'alzarono e si misero a seguirci tutti insieme con piccole grida chiocce david azzardai prese una sigaretta dal mio pacchetto e restò a rigirarla senza accendere guardando i gabbiani che ora volavano altissimi ora calavano fino all'acqua con larghi viraggi breve risalite scarti improvvisi non lo so disse forse sarebbe meglio che non ci rivedessimo no né questa sera né ma ormai mi sembra una cosa intollerabile anche a me però non vorrei neppure che non ci fossimo incontrati che non fossimo qui adesso mi riprese una mano non essere qui sarebbe la cosa più intollerabile di tutte disse con quel suo sorriso gentile lasciamo indietro anche santo spirito la nave filava ora in piena laguna e il vento della corsa si era fatto più forte il sole si andava abbassando sul nostro ponte i pochi turisti rimasti scattarono ancora qualche fotografia dell'acqua dei gabbiani della lontana costa di Lido poi se ne andarono a uno a uno giù per le scalette sei sicura di non prendere freddo? no ma preferisco restare quassù volle per forza che infilassi il suo impermeabile mi passò il braccio intorno alle spalle io accesi un'altra sigaretta e la sua restammo senza parlare fino a Poveglia e al canale di Malamocco alle case degli alberoni all'imboccatura del porto incrociamo una petroliera che usciva nell'Adriatico quella tua regina dissi o basilista che fosse la regina dell'Oionio? sì non mi hai poi detto perché l'hai lasciata hai solo detto ah come dici tu ma poi avevo fatto anche il suo gesto vago di quando diceva ah e lui si mise a ridere mi strinse finimmo per baciarci quello che si dice perdutamente fin dopo San Pietro in volta quando ci staccammo il vento e il rumore dei motori erano diminuiti i gabbiani non c'erano più metà del sole era sparita nell'acqua tutta la laguna sulla nostra destra fino alle barene più lontane e agli ultimi specchi d'acqua morta si era colorata di verde rame ed oro ocra rosso profondo Luke dissi a voce bassa Luke avevo fatto la stessa strada diverse volte in motoscafo e non avevo mai visto una meraviglia simile guardai trattenendo il fiato mentre il disco finiva di sparire mi chiesi assurdamente quanto avrebbe fatto se si fosse potuto vendere da Fox un tramonto così cento miliardi mille pensai anche che da David lo scuro e squattrinato compagno che avevo accanto io l'avevo avuto per niente come la moneta di stamattina thank you dissi mister silvera grazie per il bellissimo tramonto danke schön bitte schön disse allegro col tramonto ho avuto più fortuna che con gli affreschi ma anche quella è stata una fortuna se gli affreschi ci fossero stati staremmo magari ancora laggiù a contemplare il pordenone non credi no ma avremmo perso la nave disse con un ritorno alla sua tipica un po' antiquata galanteria e io non avrei potuto ammirare te in questa cornice anche questo tramonto ti sta benissimo nel lunghissimo canale di pellestrina la motonave avanzava piano e quasi in perfetto silenzio presentavamo le case e gli orti del litorale a sinistra la processione delle bricole e una fantastica fila di relitti barconi e chiatte in disuso pontoni di legno marcio vecchie navi semi affondate limitavano la distesa delle valli da pesca poi mentre i colori lentamente incupivano e si spegnevano l'isola si ridusse alla stretta scura striscia di sabbia fiancheggiata dai murazzi quando arrivammo davanti a Chioggia i fanali del porto erano già accesi dalla parte del mare e da quella della laguna traversammo il bacino per attraccare alla piazzetta Vigo con la sua antica colonna all'albergo sulla piazzetta dove prendemmo il tè il cameriere ci confermò che avremmo potuto tornare a Venezia col traghetto di pellestrina e la corriera ma non c'erano partenze subito e non avremmo potuto essere a Venezia prima delle otto e mezzo a meno di non prendere un motoscafo disse a meno di restare qui dissi quando se ne fu andato potremmo comprarci uno spazzolino da denti e cenare e dormire qui lo dissi metà per scherzo ma sarebbe bastato il minimo incoraggiamento per farmi telefonare a Chiara dicendole di vedere lei fare lei e che io sarei tornata il giorno dopo non ti seccherebbe che pagassi io? dissi anche lo so che tu non te lo puoi permettere non gli sarebbe seccato affatto disse gentile ma non voleva che per colpa sua io mancassi un appuntamento di lavoro ci saremmo ritrovati più tardi alla sua pensione dove avrebbe fissato una stanza più grande per tutti e due volevo? sì certo bene avrebbe fatto chiamare il motoscafo richiamò il cameriere e fece telefonare per il motoscafo che andammo a prendere sul molo della piazzetta allora disse mentre il marinaio mi aiutava a salire ti aspetto da me vieni quando vuoi mi voltai costernata non vieni con me? no scusami io prenderò il traghetto e la corriera ma come? perché? perché devo? perché è meglio che? è un po' la storia della regina dell'Oionio il marinaio ci guardava incuriosito aspettando di salire anche lui e togliere l'ormeggio ma non me l'hai mai spiegata? dissi la storia della regina dell'Oionio ah disse col suo gesto vago e il suo sorriso a filo d'erba poi restò a salutarmi con la mano mentre il motoscafo mi portava via mister Silvera cammina per Chioggia e sebbene stia aspettando l'ora in cui la corriera lo riporterà a Lido la sua andatura non ha nulla di ozioso dilatorio il suo passo resta quello di uno che non ha tempo da perdere il ritmo potrebbe ricordare quello di antiche fanterie in marcia verso un fronte ancora lontano oppure il paziente ostinato a andare ad una moltitudine di pellegrini verso santuari al di là di montagne fiumi, foreste ma c'è in mister Silvera tutt'altra scioltezza ed il resto è impossibile immaginarlo inquadrato in quei reggimenti o confuso in quelle moltitudini lo si vede piuttosto in una posizione laterale estranea un personaggio isolato e in secondo piano che si trova a fare la stessa strada ma seguendo un suo parallelo percorso per i campi la via principale di Chioggia è lunga forse un chilometro mister Silvera cammina sotto i bassi portici dove insieme all'odore del pesce, del mare ristagna una fila quasi ininterrotta di botteghe con le vetrine illuminate mamme con tre bambini, coppie di ragazze vecchi mal rasati entrano per i loro piccoli acquisti escono con filoni di pane, quaderni carne macinata per il cane quest'umile formicolio serale non lascia mai insensibile mister Silvera in qualsiasi luogo gli capiti di osservarlo sa perfettamente, stancamente che la cosa non sarà mai alla sua portata eppure in questi momenti si concede sotto forma non di desiderio ma di fioca l'abile fantasticheria a una dimessa esistenza ancorata a una dimessa cittadina non importa se in Italia, in Messico, in Finlandia, in Ucraina fermarsi, rintanarsi non essere più reperibile da nessuno infilarsi per sempre in un ingranaggio di eventi minuscoli e sempre uguali scendere a comprare il latte parlare col fruttivendolo portare nell'androne il sacchetto della spazzatura due giovani fidanzati se già non sono marito e moglie escono discutendo animati da un negozio che tiene fuori grossi rotoli di moquette di vario colore nel cavo di un bar strettissimo uomini in berretto di lana bevono e vociano da una farmacia clamorosamente bianca di neone plastica esce una donna che dopo pochi metri entra nella bottega senza insegna ad un ciabattino c'è una stufetta elettrica accesa accanto allo scaffare dove si allineano le scarpe risuolate la donna estrae dalla sporta un paio di scalcagnati moccassini e li depone i capovolti sul banco il ciabattino li studia dubitoso dice qualcosa alla donna infine si alza e viene a prendere dalla vetrina una suola di gomma nera a solchi diagonali il suo sguardo si incrocia per un momento con quello di mister silvera che si è fermato a guardare poi la sua mano raccoglie anche un altro modello di suola di gomma più spessa e con un disegno antiscivolo a crocette mister silvera dà un'occhiata come di saluto a ciò che resta nella vetrina qualche spazzola, delle stringhe, delle solette di sughero e si rimette in cammino col suo solito passo naturalmente il cocktail era il più elegante il più brillante il più riuscito che si fosse mai visto dame bellissime e simpaticissime gentiluomini intelligentissimi e spiritosissimi si aggiravano per i sontuosi saloni ora alzando gli occhi con simulato interesse verso i soffitti restaurati ma più spesso con ammirazione sincera e malcelata invidia posandoli su di me un'alta risata gorgheggiante mi seguiva di gruppo in gruppo e sebbene mi rendessi conto che la sua fonte ero io stessa pure la mia gola nuda non sembrava più controllabile o meglio ero io che non avevo nessuna intenzione di controllarla ebra d'amore mi venne in mente mentre toglievo il secondo bellini dal vassoio di un cameriere errante e giù una ricca gorgheggiata aleggiavo spesso come per caso davanti a questo o quello degli immensi finestroni e guardavo le luci dei palazzi di fronte e i loro irrequieti riflessi nel canale quell'acqua sotto di me era forse la stessa che poche ore prima si apriva davanti alla prua del battello per chioggia e a un certo punto quasi interrompevo mister Micocci per chiedergli se i laboratori della Craig che era un'industria chimica non avessero scoperto un modo per distinguere riconoscere quelle molecole così stupidamente uguali incontravo e rincontravo tutti in quel rimescolio d'onde in quel waltzer percepito soltanto da me là in fondo il coreografo Riccioluto caravaggesco in compagnia di un'alta ragazza africana dai capelli di fiamma nell'angolo opposto il romanziere di Toronto ha colloquio con due ecclesiastici e Chiara che mi veniva incontro in una nuvola bicolore verde e rosa espansa fino a terra un vero fiore? le dicevo entusiasta ti sta divinamente non te l'ho mai visto come mai in lungo? è perché dopo siamo a cena dai fra Giacomo vieni anche tu? quando ho detto all'inuccia che c'eri mi ha subito non posso gorgheggiai ho un altro impegno e anzi vorrei sbrigarmi a parlare con Palmarin per questa storia di Padova lui mi ha detto che stasera avrebbe saputo se niente disse Chiara l'ho già visto io e dice che per domani è impossibile forse dopo domani o se no la settimana prossima ma non hai voluto entrare in particolari ed è scappato via subito ho avuto l'impressione che a spiegarsi con te non ci tenesse affatto alzai le spalle per forza se era una delle sue solite faccende campate in aria adesso si vergogna di riconoscerlo o pensi sempre che ci sia di mezzo la Federen non lo so forse no piuttosto ho saputo un'altra cosa curiosa pare che ma domani dopo domani queste parole d'un momento fa filtrando attraverso la mia euforia avevano cominciato a risuonarmi sinistramente nel cervello e di colpo non ascoltavo più non gorgheggiavo più da glorioso preludio a la mia notte con mister Silvera il waltzer si era trasformato in un gorgo che mi trascinava verso un terrorizzante domani o dopo domani o la settimana prossima che fosse senza mister Silvera mi guardai attorno trassognata smarrita sussultai sentendomi posare una mano sul braccio ma cos'hai? disse Chiara non ti senti bene? no no cercai di riprendermi devo solo aver bevuto un bellini di troppo e così a digiuno ma tu scusa cos'è la cosa curiosa che mi stavi dicendo? mi stava dicendo disse di aver saputo che la Zwanich aveva avuto una proposta concreta da Palmarin ma che Palmarin faceva solo da intermediario la collezione in realtà la comprava la Federen per rivenderla magari in Brasile o da qualche altra parte dato che la sovrintendenza non si opponeva all'esportazione il dovere professionale mi fece accantonare i miei problemi per riflettere su questo sviluppo che però era curioso fino a un certo punto perché è vero che sotto certi livelli la pittura italiana si vende meglio in Italia esportabile o inesportabile che sia ma ai livelli infimi la situazione si capovolge di nuovo per croste come quelle della Zwanich che avevano il vantaggio d'essere croste autentiche d'epoca all'estero si potevano avanzare attribuzioni più fantasiose e chiedere prezzi parecchio più alti a condizione di non farsi troppi scrupoli e a me come disse a Chiara non risultava che gli scrupoli avessero mai soffocato la Federen a questo ci credo una che parla in quel modo non deve vergognarsi di niente disse Chiara con riprovazione drizzai le orecchie in quale modo chiesi ma come ieri no e sentissi le sconcezze che va dicendo stasera perché è qui anche lei naturalmente i rinnovati sospetti anzi la certezza che la Federen stesse tentando qualche grosso colpo mi restituirono imprevedutamente tutta la mia euforia niente era mai detto garantito scontato in anticipo ogni possibilità che si apriva ne chiudeva delle altre e viceversa carpe diem anzi carpe noctem pensai alzandomi per inseguire un terzo Bellini malgrado le ammunizioni di Chiara e del sopraggiunto Uve che sfoggiava un suo rosso girocollo da pittore neo qualcosa e traversando la folla ero di nuovo debordante di simpatia per tutti compresa la Federen e soprattutto il fuggiasco Palmarin che ad un tratto mi si svelava nella sua vera luminosa essenza un angelo del signore perché se già ieri non si fosse defilato se l'avessi seguito a Padova invece di andarmene oziosamente per le mercerie folleggiante e felice mi ritrovai in un nuovo giro di waltzer che nel passaggio tra due saloni mi fece scontrare col professore tedesco carissimo Pordenone appesa festante al suo braccio gli raccontai che avevo passato la mattina ad ammirare affreschi del maestro tutti bellissimi ma che per sbaglio ero andata a cercarne anche nel chiostro di santo stefano dove c'erano adesso degli uffici ma gli affreschi non ce n'erano mai stati ah ma lei non si sbagliava affatto gli affreschi una volta c'erano disse complimentoso e subito infervorato erano putti allegorie personaggi biblici mi spiegò solo che nel 1965 erano stati staccati perché stavano andando completamente in malora e del resto non c'era senso a lasciarli lì all'intendenza di finanza adesso erano a lacca d'oro staccati nel 1965 pensai questo significava che David era stato in quel chiostro più di vent'anni prima e non certo come guida ma che per qualche ragione non aveva voluto dirmelo ecco perché aveva ammesso così in fretta il suo errore o aveva creduto davvero ad aver sbagliato chiostro c'era un particolare mi ricordai che effettivamente non corrispondeva almeno secondo il pignolissimo Herr Professor io credevo provai a dire ma si avvicinava la moglie rana già allarmata dalle mie effusioni era quella che non credeva al caso alle risorse del destino e che se ne andava sparata giù per le mercerie sapendo già esattamente che cosa avrebbe comprato restituendole il suo prezioso pordenone stavo per confidarle che anche a Venezia il destino poteva intervenire che non tutto era perduto finito concluso per sempre se sul mio prezioso Silvera non sapevo niente o quasi se anzi mi ripetei scoprivo ogni momento di saperne di meno chi mi impediva di abbandonarmi alle più folli speranze invece che al terrore ma oltre un filare di giapponesi vidi sorgere in lontananza il sole di un enorme cappello bianco e volteggiai rapida fin laggiù fino alla Federen che abbracciai con effusione mmm tutta in bianco ammirai mmm tutta in grigio ammirò lei stavo per confidarle che anche sotto mi ero messa della biancheria di seta grigia silver grey e che il mio massimo problema era a tratti il seguente sarebbe o no piaciuta a mister Silvera il problema che volevo sottoporre alla simpatica Anita era però un altro benché sempre connesso con l'argento tu ti intendi anche di monete antiche mi pare io di monete ma io sono soprattutto un ornitologa an ornitologist ein Vogelkennerin disse prendendo a testimoni una collega tedesca e una ragazzotta americana con cui stava mangiucchiando no senza scherzi lo so che te ne sei sempre più o meno occupata tirai fuori il mezzo scudo dalla borsetta da un'occhiata a questo per favore lei tirò fuori a sua volta una lente rotonda ma invece di accostarla alla moneta si mise a esaminarmi un occhio oh oh vedo un uomo I see a man sillabò e tradusse a beneficio delle altre due in tono di indovina china sulla sfera di cristallo vedo un letto vedo una bellissima scopata no sul serio dimmi cos'è dissi sentendomi incredibilmente arrossire lei mi scruttò con un sorrisetto astuto poi ispezionata la moneta mi confermò che era falsa ma antica ed un certo valore proprio come falsa come non poche cose a questo mondo ragazza mia sentenziò e con un amico alle sue accolite disse che io dovevo stare molto attenta essere very careful col mio mystery man perché gli uomini pensavano a una cosa sola volevano una cosa sola da noi altri fece una pausa un nuovo amico e per fortuna gridò scoppiando in una gran risata e picchiandomi sul sedere con la sua lente per fortuna io la riabbracciai la ringraziai diffusamente e in quel momento le avrei concesso con gioia la prima scelta su tutte le collezioni sugli arredi di tutte le ville non solo attorno a Padova ma dell'intero Veneto dell'intera Toscana in realtà avrei concesso qualsiasi cosa a chiunque pensavo continuando il mio giro una specie di sdoppiamento un ferreo sillogismo come quelli che vengono in sogno mi dava due certezze simultanee e perfettamente compatibili avrei potuto fare l'amore col primo irrilevante venuto proprio perché farlo con David era una cosa senza confronti senza comune misura senza nessuna attinenza con quella rudimentale attività anche con Uve ma sì anche col povero Uve che dall'alto del suo rosso girocollo mi andava raccontando di essersi di recente dedicato all'incisione maniera nera anche col dinoccolato sovrintendente che Chiara un po' impensierita insospettita si trascinava dietro per infilarlo prudentemente tra me e il suo Uve queste sono le feste che mi piacciono diceva Amaro il sovrintendente le feste per l'arte che si salva e che resta a Venezia voi altre a lasciarvi fare vi portereste via anche i soffitti i pavimenti qui non resterebbero nemmeno i piccioni e non sarebbe poi quel gran male non se ne può più di quelle abominevoli bestiacce lo rimbeccò Raimondo che transitava in quel momento a un metro da noi e proseguiva sorridendo a destra e a sinistra ma la collezione Zwanich chiesi ho sentito dire che eventualmente la lascereste esportare beh c'è un limite a tutto si mise a ridere il sovrintendente roba così anzi bisognerebbe dare una festa se qualcuno se la porta via la cena da Cosima mi venne in mente tutta un tratto avevo promesso a Raimondo che avrei fatto il possibile per andarci domani sera e che comunque avrei avvertito in tempo lei era una che a queste cene sempre in onore di qualche secondo lei eminentissimo personaggio ci teneva come agli occhi della testa le organizzava con una cura da maniaca e io invece non m'ero ancora fatta viva non le avevo telefonato per dirle né di sì né di no dovevo avvertirle immediatamente che mi misi in cerca di un telefono perché lì al cocktail lei sicuramente non c'era era già immersa in infiniti preparativi e discussioni con Cesarino il suo vecchio maestro di casa il telefono finì per trovarlo al banco del guardaroba feci il numero di lì e dal tono grave di Cesarino capì che la mia chiamata era stata attesa con crescente impazienza e angustia ma con Cosima non ci fu verso di dire di no chi taceva consentiva disse e lei ormai mi aveva incluso d'autorità se la tradivo tutto era finito tra noi ma allora finì per dire senti guarda con ispirazione improvvisa avevo pensato che il destino bisognava anche incoraggiarlo impegnarlo costringerlo in qualche modo era questo il fondamento vero della scaramanzia sapendo che avrei dovuto portarmelo appresso il destino mi avrebbe lasciato David per lo meno fino a domani sera per rispetto a Cosima se non a me è un po' un problema disse Cosima però un posto libero posso ancora farlo saltar fuori ma per curiosità affari o affari affari mi precipitai a mentire e quanto al posto mettilo pure dove vuoi accanto a chi vuoi ma da dove arriva che cosa parla qualsiasi lingua non hai che da scegliere rimettendo giù il telefono mi trovai davanti la Federen che si rinfilava in un candido mantellone da Domenicana Mystery Man Dangerous Man mi ammonì col dito allontanandosi verso lo scalone altri se ne andavano e altri arrivavano io guardavo l'orologio e poi di nuovo il canale sotto i finestroni chiedendomi dove fosse arrivata a questo punto la sconquassata corriera da Chioggia vedevo forse a metà della lunghissima lingua di terra i fari gialli avanzare faticosamente tra nebbie canneti rade casupole buie e mi immaginavo seduta io stessa accanto a Mr. Silvera che se ne stava rannicchiato contro il finestrino con gli occhi chiusi o forse fissava la schiena dell'autista col suo giubbone di pelle nera o guardava il lontano alone di Venezia dove c'ero io che alzavo il bicchiere brindavo al mystery man all'estremità di Pellestrina dove il traghetto ha sbarcato qualche automezzo e i suoi pochi passeggeri il piazzare del capolinea è deserto la corriera è in ritardo pur che non siano in sciopero dice uno dei viaggiatori locali posando a terra il suo carico di ceste secondo un prete in sottana con una ruvida sacca a tracolla e una contadina che rimpiange di non essersi portata appresso la bicicletta ci saranno state magari delle difficoltà a Malamocco a Malamocco si può perdere anche mezz'ora per la manovra di trasbordo specialmente se c'è foschia ammette il timoroso dello sciopero sotto la scura barriera dei murazzi il capolinea è rischierato da un unico lampione oltre che dai fanali del traghetto rimasto in attesa contro il molo ma dal rettifilo che si perde nel buio verso nord è soltanto un rumore di motore a segnalare finalmente l'arrivo della corriera mentre i fari stentano a emergere finché il veicolo non è quasi sul piazzale mister silvera che si è tenuto come sempre un po' indisparte dal gruppo aspetta che tutti gli altri siano saliti per riprendere la sua valigia e ma no questa volta non ha valigia si rende conto il gesto gli è venuto spontaneo per via delle mille volte che ha viaggiato su corriere come questa salendo a fermate o sperduti capolinea come questo e l'impressione gli resta mentre dal finestrino polveroso segue l'alterno addensarsi e diradarsi della nebbia lungo la strada e il succedersi delle fermate ai diversi incroci ponti villaggi piccoli porti San Vito Porto Secco San Pietro Involta o non piuttosto Dobromiers Stanovisca Clusesco Non Chifissa Otambuc Non San Pedro de Mojos i nomi si moltiplicano e si confondono come su una carta stradale che si infittisse sempre di più fino a diventare indecifrabile e mister Silvera per un momento non sa più dove stia andando se stia tornando dalla donna che ha incontrato oggi e che dovrebbe ritrovare tra poco o se non abbia già ripreso il suo viaggio interrotto Sei stata vista? mi soffiava Raimondo all'orecchio Davvero? gorgheggiavo io Chi sarebbe? Un pezzo raro Autentico? Firmato? Senza firma ma autenticissimo Mi informerò sta tranquilla e di me sai che ti puoi fidare io non mi lascio raccontare balle come Palmarin Non parlarmi male di Palmarin è un uomo preziosissimo non sai quanto Ah ah è stato lui a presentartelo Niente affatto e non me l'ha presentato nessuno mi sono presentata io da me Ed è presentabile? Lo presenti anche a me? Domani sera da Cosima Ma chi è? Cosa fa? Oh è uno che gira che viaggia E mentre lo dicevo lo vidi al banco della pensione Marine che riconsegnava la chiave pagava Look look Mr. Silvera is leaving se ne va nella notte he's going away Ciao ciao Valbettai già voltata Ma che ti prende? Perché tutta questa fretta? Te lo dico domani da Cosima Sì ma guarda che io intanto proseguo le mie indagini ho il diritto di sorvegliarti mi gridò dietro lui Sorveglia sorveglia pure quanto vuoi Ma poteva essere già troppo tardi pensai precipitando giù per lo scalone Un uomo così senza impegni senza legami senza un lavoro o con impegni con legami con un lavoro che non conoscevo poteva sparire letteralmente da un momento all'altro per le quattro cose che aveva da mettere in quell'unica valigia C'erano due motoscafi dondolanti all'attracco ma erano riservati ad assurdi personaggi ufficiali a insensate autorità Stavo per buttarmi a nuoto nei neri gorghi quando arrivò un taxi che scaricava altri invitati Sorrisi al tassista come nell'affresco del Pisanello la principessa di Trevisonda sorride a San Giorgio che l'ha salvata dal drago Gli dissi di passare prima un momento al mio albergo Agli ordini disse militaresco il santo cavaliere In camera ficcai in una borsa una camicia da notte il necessario da toletta e qualche altro indumento per il caso che David mi avesse proposto di ripartire all'alba per chissà dove Con mister Silvera tutto era possibile Ridiscesi Ancudevan Pensione Marine dietro San Giovanni in Bragora più o meno Lei sa dove è precisamente? L'uomo si consultò con altri santi riuniti all'imbarcadero dell'albergo in toni sommessi da sacra conversazione ma mi accorsi benissimo che ogni tanto mi guardavano curiosamente Una pensione marine da quelle parti ci sarebbe mi riferì San Giorgio tornando sul rio di Santa Ternità Sì dissi è lì che devo andare Il rio non era poi precisamente quello di Santa Ternità ma un altro semibuio che se ne staccava tra muraglie senza fondamenta Fui io a riconoscere i gradini da prodo alla calletta Ecco è lì Il santo legò il suo cavallo a un anello fissato al muro e mi aiutò a scendere con un'occhiata dubbiosa all'ingresso della pensione e un'altra di franca disapprovazione alle mie scarpette d'argento Attenta sui gradini signora si tenga bene alla ringhiera Mi passò la borsa mi ringraziò lo ringraziai Entrando nella pensione mi sentii più principessa di Trebisonda che mai tra un cavaliere che se ne andava e un altro che mi aspettava nel castello Ma al banco dove non c'era nessuno mi sentii gelare vedendo la chiave del numero 12 appesa alla rastrelliera Era rimasto a Chioggia pensai mentre le parole una donna in ogni porto si incasellavano fulmineamente nella mia testa oppure era davvero tornato a riprendersi la valigia e se ne era già riandato E non ha lasciato detto niente? Niente signora L'insostenibilità di questo dialogo immaginario mi fece prendere d'impulso la chiave e correre di sopra Per una donna in abito da cocktail e sconsolatamente appoggiata alla finestra in fondo a una stanza strettissima non è facile quando lo spazio che la divide dalla porta sia occupato da un letto un armadio un tavolino e due sedie volare tra le braccia di un uomo che sopraggiunga Ma è proprio questo il fenomeno a cui assiste o meglio in cui si trova immediatamente coinvolto mister Silvera rientrando e si capisce che in una situazione del genere i chiarimenti del caso dal ritardo della corriera per il Lido al fatto che mentre lei saliva da lui lui era già di sopra con la padrona a scegliere una stanza più grande per tutti e due si hanno rinviati a più tardi Lo stesso trasferimento dalla stanza 12 alla 15 del resto viene a slittare Le due sedie sono più che sufficienti per gettarvi i vestiti e gradualmente la biancheria di seta Silver Grey che il fiocolume accanto al letto arricchisce di impensati valori chiaroscurali e tonali ma da tutto questo è passato diverso tempo i chiarimenti meno numerosi e precisi di quanto lei avrebbe desiderato sono stati dati e gli indumenti raccolti il trasferimento effettuato poco prima che dal campanile di San Francesco della Vigna suonasse la mezzanotte poi nel vasto letto della nuova stanza altre domande sono state poste e deluse altre tenerezze scambiate un'ultima sigaretta fumata nel buio ed è il solitario rintocco del luna a spandersi ora sul sestiere di castello le due finestre della stanza 15 aperte più in alto sul canale lasciano intravedere quiete cime d'alberi contro un cielo brumoso che la luna ha appena cominciato a rischiarare lo so certo anche io dovrò ripartire ma tu non mai ancora spiegato niente in realtà non ha potuto spiegarle niente pensa mister silvera ascoltando il tempo fluire nel leggero calmo respiro della donna che gli dorme accanto le ha solo detto di aver lasciato i suoi turisti e smesso il suo mestiere di guida perché era stanco perché non ne poteva più di treni e di pullman di navi e di aerei perché anche lui di tanto in tanto aveva bisogno di fermarsi da qualche parte ma se era così ha obiettato lei perché aveva voluto subito correre a chioggia con un'altra nave ah ma con lei era diverso e allora perché non aveva voluto tornare con lei in motoscafo perché ha finito per dirle aveva sperato di vedere una certa persona che una persona che persona a chioggia a chioggia o a lido una persona da cui dipendeva la possibilità per lui di fermarsi ancora un po' di tempo a venezia di restare ancora un po' di tempo con lei ma lui allora dipendeva ancora dall'agenzia lei aveva creduto di capire che se era comunque per una questione di soldi lei no i soldi erano l'ultima cosa per i soldi avrebbe sempre potuto sbrogliarsi la sola cosa che non dipendeva assolutamente da lui era il tempo che avrebbe potuto restare a venezia e poi dove avrebbe dovuto andare non lo sapeva neanche questo dipendeva da lui ma avrebbero sempre potuto rivedersi a venezia o da qualche altra parte anche lei era sempre in giro avrebbero potuto sì forse sì ma sarebbe stato difficile per questo le aveva regalato quella moneta come una specie di portafortuna per tutti e due gliela aveva regalata riflette mister silvera mentre il campanile suona l'una e mezzo come una di quelle monete che si gettano nelle fontane di lontani paesi di lontane città con la speranza di tornare ma l'aveva anche avvertita che era falsa capitolo sesto mi svegliai senza trassognatezze né languori lucidissima e subito mi resi conto che l'emotività notturna non mi aveva lasciata non era affatto tramontata ma avendo compiuto una specie di rotazione astronomica mi presentava ora la sua faccia di urna cioè pratica compromissiva utilitaria e tuttavia con lo stesso potere assoluto su di me avevo appena aperto gli occhi che già mi dettava la sua regola fondamentale non perdere un solo minuto non sciupare un solo istante lucidissima feci un po' di conti con la situazione dell'uomo che dormiva accanto a me col suo respiro impercettibile continuavo nella luce diffidente del mattino a non sapere altro che questo che avrebbe dovuto ripartire tra pochi tra pochissimi giorni e che poi difficilmente avremmo potuto rivederci risentirci più la sola altra informazione o promessa che avevo potuto strappargli era che avremmo avuto comunque il tempo di salutarci che in nessun caso se ne sarebbe andato senza avvertirmi quanto al mistero che c'era dietro avevo già esaurito se non tutte le ipotesi immaginabili almeno le più plausibili a cominciare da quella che non ci fosse nessun mistero e che David Silvera fosse semplicemente uno che aveva deciso di non lasciarsi incastrare da nessuna o che al contrario fosse già stato irrimediabilmente incastrato da qualcun'altra o che si trovassi invischiato in qualche affare commercio traffico di dubbia natura o che fosse addirittura per romanzesco troppo fantasioso che mi sembrasse un agente del servizio segreto israeliano in missione e qui a Venezia in attesa di qualcosa o di qualcuno un segnale una chiamata un ordine ma in ogni caso di queste o di qualsiasi altra ipotesi mi fosse venuta in mente sapevo benissimo che non avrei potuto verificarne neppure una chiaramente il mio mystery man non amava parlare di sé magari per la semplice ragione che come molti uomini trovava noiosa e superfua ogni spiegazione di dettaglio e io non mi sarei certo messa ad assillarlo con domande indiscrete non solo ma dovevo assolutamente evitare di rivolgerle anche a me stessa quelle domande sapere non sapere cosa cambiava vana curiosità puro spreco di tempo mentre non c'era un minuto da sprecare la grande questione che adesso si poneva era piuttosto come rallentarlo sfruttarlo al massimo il tempo lucidissima vedevo due possibilità la prima era l'isola deserta nel senso che avremmo lasciato queste pareti spoglie e deprimenti per andarci a rinchiudere tra quelle del mio albergo in una suite di due camere con salotto comunicante che sarebbe stato facile trasformare in Tahiti in Bora Bora in una di quelle isole abbandonate della laguna dove Chiara avrebbe voluto installarsi con il suo uve mai uscire niente giornali tv spenta e dire al centralino di non passare nessuna telefonata totalmente presenti e disponibili l'uno per l'altra giorno e notte minuto dopo minuto finché durava ma a parte che lui poteva trovare un po' asfissiante questo tet-a-tet di naufraghi e che il ruolo della ninfa calipso adorante e trattenente non mi convinceva del tutto il pericolo era di precipitare dall'isola del paradiso nella cella della morte dove tutti e due non avremmo fatto altro che tendere l'orecchio al tichettio incalzante dell'orologio ai passi del boia molto meno angosciosa l'altra soluzione decisi fare come se niente fosse ignorare il tempo o meglio usarlo come un sacco vuoto ed elastico riempirlo il più possibile di fatti di cose condivise di ricordi sia pure quando uscì rabbrividendo dalla doccia lui era sveglio e se ne stava appoggiato a un gomito dormito bene? benissimo grazie così bisognava fare e con la stessa disinvoltura mentre mi rinfilavo tranquillamente nella mia seta grigia gli dissi che un doppio domicilio mi sembrava date le circostanze scomodissimo e svantaggiosissimo gli proponevo quindi di trasferirci nel mio albergo che era tra l'altro più centrale e meglio riscaldato lui non batte ciglio ottima idea disse si alzò e nudo venne a baciarmi leggermente tenendosi staccato da me tenendomi con delicatezza per un braccio sei pieno di cicatrici? in un certo senso lo guardavo per la prima volta già un vero collabrodo sorrise lui ma è capitato fu un po' di tutto operazioni incidenti frecce avvelenate una vicino l'ascella sinistra l'avevo già vista toccata e anche un'altra come una parentesi sopra l'ombelico ma ne aveva una terza ben marcata sul fianco destro e quando si girò per andarsene in bagno ne notai ancora una su un polpaccio e un'altra in mezzo alle scapole non avevo la minima competenza in materia ma pensai lucidamente a ferite di guerra e nonostante i miei buoni propositi ricominciarono le domande le congetture quale guerra ma era ovvio l'interminabile guerra arabo-israeliana il sergente Silvera appiattato dietro una duna nel Sinai il tenente Silvera sporto dalla torretta di un carro armato tra brulle colline libanesi e tutto attorno una granuola di schegge e pallottole a meno che se si trattava dell'agente segreto Silvera non fossero cicatrici della guerra clandestina contro i terroristi Kalashnikov all'aeroporto di Roma bombe alla sinagoga di Amsterdam Tritolo a Parigi ancora all'aeroporto di Roma e lui che si buttava a terra e sparava da dietro un bidone della spazzatura andai d'impulso fino allo sgabello pieghevole dove era posata la sua valigia ne sfiorai gli angoli sbucciati ma poi mi mancò il coraggio di perquisirla e del resto cosa avrei fatto cosa gli avrei detto se avessi trovato una pistola sotto le sue camice sapere non sapere poco importava scivolavo nell'intenerimento mi sedevo su una sedia salutavo quella camera squallida il letto sfatto la coppia di lampade coniche sopra la testiera la coppia di tappetini persiani l'armadio che era stato moderno trent'anni fa sorridevo commossa e poi di colpo non sorridevo più mi rialzavo agitata tutta la stanza con gli oggetti che conteneva prendeva un altro significato l'albergo misero e fuori mano poteva essere la scelta deliberata di un uomo in pericolo che si defilava si nascondeva e io idiota che mi proponevo di toglierlo da suo rifugio di portarlo nel cuore di Venezia in piena luce in piena folla immediatamente reperibile da qualsiasi killer alto com'era si poteva essere più ottusi più irresponsabili quando uscì dal bagno avvolto nella sua toga bianca a nido d'ape non mi riuscì di guardarlo in faccia pensavo non so ma forse è meglio che restiamo qui no? perché? aveva piedi magri slanciati bellissimi come le mani stretti da calzari di cuoio li immaginavo in movimento su un vasto mosaico azzurro bianco nero oro dicevo nel senso che qui è più tranquillo molto più raccolto e se tu preferisci ma non sarai tu sorrise lui che preferisci per ragioni sfacciatamente sentimentali no no e se fosse non mi vergognerei di ammetterlo è solo perché qui c'è meno gente e se per caso non ti va di farti vedere in giro è meglio che non ti vedano con me è questo che vuoi dire no no cosa ti viene in mente gli equivoci uscivano come aspidi dal paniere di Cleopatra ecco che cosa succedeva a mettersi con uno sconosciuto mi mossi per abbracciarlo stringerlo mi fermai gli abbracci non servono a dissipare certe nebbie ecco dissi sì mi sentivo più nuda di lui senza ritegno senza stile indecente non te lo chiedo per curiosità non è che voglio impicciarmi tu capisci capisco andai avanti stringendo i denti vorrei solo sapere c'è qualcuno che ti cerca ti devi nascondere ecco ah disse la forma bianca di mister Silvera stagliata contro lontanissimi orizzonti da quella sua distanza scrutò tranquillo tra l'armadio le poltroncine marrone il letto una spalla gli usciva dalla toga come una mezza verità non c'è gente che ce l'abbia precisamente con me non ho nemici constatò alla fine del suo esame Venezia sarebbe comunque troppo piccola per nascondersi chiunque mi troverebbe subito e poi ieri abbiamo fatto i turisti tutto il giorno sotto gli occhi di tutti è vero non ci pensavo un uomo braccato non se ne stava col naso in aria a cercare gli affreschi del pordenone sai che poi li ho trovati? che cosa? quegli affreschi erano lì avevi ragione solo che nel 1965 li hanno staccati adesso sono a Laca d'Oro ma tu quando li hai visti? nel 1965? sì credo più o meno però uno sbaglio l'hai fatto lo stesso adesso che ci penso in quel chiostro ci sono gli uffici dell'intendenza di finanza e allora? tu invece dicevi quelli del genio militare lui mi fissò come se fosse sul punto di dirmi una qualche verità decisiva per esempio che stavo diventando una smanfara ogni minuto più invadente petulante dissi io ridendo colpevolmente la mia verità decisiva non c'è un minuto da perdere dobbiamo traslocare da me e poi correre subito al Laca d'Oro d'accordo disse lui corriamo pure dove vuoi ah e poi stasera senti ieri ti ho lasciato andare ma stasera se mi vuoi bene resti con me dovremmo andare insieme a un altro cocktail una cena farai conto d'essere con i tuoi turisti ti chiedo troppo no no e poi se ti voglio bene disse devo pur cenare con te ecco finalmente me l'aveva detto gliel'avevo detto ce l'eravamo detto pensai con indicibile trasporto il tempo dava i suoi frutti lui lasciò scivolare a terra la toga umida e cominciò a coprire rapidamente le sue cicatrici di guerra di pace poco importava